Grazie a tutti! Allora praticamente guarda c'era un barno e il padrone del barno aveva appena lavato il cesso con un materiale che praticamente non conosceva, a quel punto arriva una signora, si siede su un cesso e non riesce più a staccarsi dal cesso. Allora il padrone del barno chiama i carabinieri. Sti carabinieri praticamente arrivano nel padrone del barno, sopra il barno aveva un cappello da messicano. E allora ha dato questo cappello da messicano per con me la signora per non fare delle batti intime. Aspetta che aspetta, aspetta che aspetta, i carabinieri a un certo momento aprono la porta e dicono la signora siamo riusciti a staccarla, ma praticamente per il messicano non c'è stato nulla da fare. Grazie! 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 Esser esposito! Arrivè, arrivassi te! Che bella cosa è da un'unità che solle Un piccolo! Un piccolo! Santè! Santè!!! Santè!!!!! Viva noi, viva noi! Felta Roma! Eccolo, eccolo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.